Nel 1992 Naturalia Bau nasce come azienda orientata alla biodilizia. Sono 25 anni quindi che Naturalia Bau porta avanti la propria missione di sostenibilità e salubrità nel settore edile. A dimostrazione di ciò Naturalia Bau costruisce la propria sede nel 2008 con un edificio ad emissione zero, il primo edificio commerciale in Italia ad emissione zero. Il mercato italiano si sta evolvendo verso sempre una maggiore attenzione a quelle che sono il rispetto nei confronti dell'ambiente e della persona. I clienti di Naturalia Bau possiamo identificarli in quattro macro settori, il privato, il progettista, la rivendita edile e l'applicatore che può essere un'impresa piuttosto che un artigiano. Sono clienti preparati. Naturalia Bau sul territorio italiano, oltre ai propri prodotti, offre numerosi servizi ai propri clienti. Tra questi ricordiamo la consulenza che viene effettuata dalla nostra rete tecnico-commerciale per far fronte a qualsiasi necessità. I vantaggi che Naturalia Bau può dare al committente possono essere sia sul prodotto che sulle soluzioni. Nello specifico sul prodotto, i prodotti sono certificati con tutte le certificazioni possibili sulla sostenibilità, la sicurezza e la salubrità dei materiali. Sulle soluzioni invece da diversi anni Naturalia Bau si fa garante dei pacchetti di coibentazione che ha elaborato, che ha sviluppato nella propria esperienza pluriannale. Ed è per questo motivo che noi riusciamo a dare la garanzia a vita sui pacchetti di coibentazione tetto e parete. Considerato che i prodotti Naturalia Bau, una volta implementati e posati, sono in grado di rendere più efficiente l'edificio, quindi spendere meno energia, e che al momento dello smaltimento, essendo compostabili, non vi sarà alcun costo per i nostri figli, possiamo dire allora che forse alla fine della vita del prodotto il costo può pareggiare o addirittura essere minore rispetto a quello di un prodotto tradizionale. Grazie. Grazie.